Sì, questa ventiduesima giornata tecnica delle frutticulture delle valli del noce è come da tradizione il primo evento importante di ogni annata per testimoniare e rappresentare al mondo della produzione melicola in particolare i risultati e le continue attività in progress che la Fondazione DUMMAC in rete, in sinergia con gli enti di ricerca locali, ma nazionali e internazionali mette in campo per riuscire poi a dare risposte concrete, quindi applicative a quelli che sono i bisogni della produzione. Una giornata oggi che vede quattro tematiche di grande attualità trattate, strettamente conseguenti anche a quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico, della globalizzazione dei mercati, quindi dei trasporti e delle merci che accanto a delle opportunità sicuramente comportano anche delle minacce, infatti insetti come la cimice asiatica derivano da territori ben lontani che però sono diventate una realtà, una problematica che il mondo agricolo deve affrontare, peraltro in un approccio di coltivazione sostenibile. Quindi nozioni e informazioni pratiche applicative per riuscire chiaramente a contrastare queste patologie in un'ottica di sostenibilità, quindi con metodi alternativi alla chimica e nella consapevolezza che le soluzioni si ottengono con un mix di risposte.